Giornata a mar di soddisfazioni la prima del nuoto in vasca agli europei di Budapest 2021 per quanto riguarda appunto l'Italia. Solamente un bronzo nella 4% stile libero, delusione che arriva soprattutto dai 400 stile libero uomini dove non andiamo a medaglia nonostante la presenza di due appunto nuotatori fortissimi come Detti e De Tullio. Giornata che vede anche un record del mondo battuto, quello del russo Klimenko Leshnikov che veramente distrugge il precedente primato nei 50 dorso uomini. Buonasera a tutti amici fasi di sport e ben ritornati su un buon ero in sprocciane. Il sono il senso qui per parlarvi appunto della prima giornata del nuoto in vasca agli europei acquatici di Budapest 2021. Giornata piuttosto amara per l'Italia con solamente una medaglia dopo la pioggia di medaglie arrivate appunto nel nuoto di fondo, nel sincronizzato e nei tuffi. Ma partiamo subito parlando della prima gara ai 400 metri misti donne che vede la doppietta dell'atlete di casa delle ungheresi con la Lady di Ferro Katinka Ozu che vince per l'ennesima volta appunto una medaglia internazionale davanti alla giovanissima connazionale Mia Luivari. Grandissimo recupero per lei nelle ultime due frazioni tra rana e stile libero e va a conquistare un argento e zequo con la britannica Wilmot che invece ha fatto da padrone e stata la migliore nel dorso. Italiane che chiudono quarta e quinta rispettivamente con Cusinato e Franceschi. Ma da qui non ci aspettavamo molto e tutto sommato è stata una buona prova delle italiane. La gara successiva è la gara del grosso rimpianto appunto il 400 stile libero uomini con l'oro che va a sorpresa al russo Martin Maliutin seguito da Oebek l'austriaco. Delusione anche per il lituano Rapsis che comunque conquista un bronzo. Solamente quarti e quinti Detti e De Tullio. Stamattina erano stati tutto sommato abbastanza bravi insomma con dei buoni tempi. Quest'oggi è mancato qualcosa. La gara è partita troppo troppo piano. Ne ha approfittato Oebek che ha provato subito ad attaccare. E appunto il fatto che la gara sia stata più controllata diciamo ha favorito gli outsider come appunto il russo Maliutin e l'austriaco Oebek. Passiamo dunque alle semifinali con la semifinale di 50 stile libero donne. La prima vinta da Pernille Brume. La seconda da Ranomicromo e Vigiojo. Silva Di Pietro eliminata. Per quanto riguarda i 52 uomini appunto abbiamo il record del mondo, il nuovo record del mondo fatto segnare da Klimenko Leshnikov nella seconda 23 e 93. Appunto un tempo fantastico per il russo. La prima viene vinta invece dal rumeno Glinta. Simone Sabbioni riesce ad accedere alla finale con il settimo tempo se non sbaglio mentre Thomas Cechon è fuori ma sappiamo che lui si sta concentrando su altre distanze. Per quanto riguarda la semifinale dei 100 del fino donne, bene le italiane con Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi che si qualificano. La prima semifinale vinta dal francese Vattel, la seconda da Louise Hanson e appunto domani vedremo in finale entrambe le italiane. Nonostante Elena Di Liddo abbia avuto un problema al piede, sia stata in ospedale appunto ieri. Per fortuna nulla dirotta e quindi è riuscita a prendere parte alle gare e a qualificarsi anche per la finale. Quindi veramente chapeau ad Elena Di Liddo. Per quanto riguarda invece la semifinale dei 100 rana uomini, la prima semifinale è conquistata dall'olandese Arno Camminga mentre la seconda è conquistata da sua maestà Adam Pitti. Adam Pitti che appunto non manca mai di accedere appunto alle finali, sappiamo che è fortissimo, è il più forte al mondo nella rana. In generale la rana europea, soprattutto in questa distanza, è praticamente la più forte al mondo. Alle finali mondiali si qualificano praticamente quasi solo europei, quindi veramente una finale di livello incredibile. Bene, Niccolò Martinenghi che nella prima vasca riesce a tenere il ritmo di Adam Pitti e anche nel finale, nella seconda vasca, non perde nemmeno tantissimo. Si qualifica con il secondo tempo, appunto, lo vedremo in finale, così come Alessandro Pinzuti, il giovanissimo classe 99, dopo che ha iniziato ad allenarsi assieme a Martinenghi, ha fatto veramente il grande salto di qualità e si riesce a qualificare in finale con il quinto tempo, quindi veramente grandissima prestazione per il giovane italiano. Passiamo dunque alle ultime due gare della giornata, le due staffette 4% stile libero. Per quanto riguarda la femminile, abbiamo una grande partenza per l'Olanda con Ranomi Crombo di Vigiojo, poi nelle seconda e nella terza vasca abbiamo una lotta soprattutto tra Gran Bretagna e Francia con l'Olanda che però rientra in gioco nell'ultima frazione, con una frazione spettacolare di Femke Enskerk che va veramente a insidiare la medaglia, appunto, l'oro della Gran Bretagna, Gran Bretagna che però riesce a resistere, andando a conquistare l'oro davanti ad Olanda, Francia. L'Italia è solamente sesta con un tempo piuttosto alto, un tempo che non basta per la qualificazione olimpica, quindi molto probabilmente non vedremo la 4% stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Per quanto riguarda invece l'ultima gara del giorno, la 4% stile libero Uomi finalmente arriva alla prima medaglia e un bronzo con, appunto, Thomas Ceccon, Alessandro Miressi che fa una grandissima frazione, record italiano ed avanti a tutti nella prima frazione, poi Lorenzo Zazzeri un po' in difficoltà, Thomas Ceccon tutto sommato fa una buona prova, Manuel Frigo si difende nell'ultima vasca, però non basta per contenere il rientro della Gran Bretagna, mentre nel frattempo la Russia, con soprattutto Clement Kolesnikov, era riuscita a fare il vuoto andando a conquistare, appunto, l'oro davanti a Gran Bretagna e Italia. Dunque, giornata piuttosto amara, come già detto, per l'Italia. Abbiamo avuto un record del mondo, abbiamo avuto l'ennesima vittoria di Katinka Ozu, abbiamo avuto una sorpresa con la vittoria di Maliutin nella 4% stile libero Uomini e abbiamo avuto, appunto, due ori per la Russia, un oro per la Ungheria e un oro per la Gran Bretagna. Dunque, domani staremo a vedere con Simona Quadarella, che si è qualificata stamattina per gli 800 stile libero, insieme anche a Martina Rita Caramignoli. Le vedremo domani in gara con Quadarella, che è la grandissima favorita, la campionessa uscente negli 800 stile libero, campionessa europea, dove, appunto, nella scorsa edizione a Glasgow conquistò 800, 400 e 1500. Vedremo anche, appunto, Sabbioni, vedremo Di Lido e Bianchi, vedremo anche Niccolò Martinenghi contro sua maestà Adam Pitti. Comunque, ragazzi, direi che per questo video vi invito a lasciare un commento, vi piace, iscrivervi e iscrivervi sulle nostre pagine Instagram. Ci vediamo un prossimo video.